La Santa Messa, la statua portata in processione, le bancarelle, le luminarie, la festa patronale per tutte le comunità, il momento in cui fede e tradizione si fondono. Sono giorni di preghiera e di speranza scanditi da sacri rituali, ma anche giorni in cui le amministrazioni fanno il punto sul lavoro svolto e su quello in programma. A San Pancrazio e Salentino, giovedì sera, il clou dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono con i fedeli al seguito del protettore con la consegna delle chiavi da parte del sindaco che dalla Cassarmonica ha parlato ai concittadini. Siamo a lavoro continuamente, tante sono le iniziative di ambito culturale, abbiamo ripensato i servizi, l'utilizzo delle istrutture e degli spazi comunali. Abbiamo messo in cantiere tante strade e tante mutabelle, abbiamo progettato nuove infrastrutture e molto altro. San Pancrazio si sta svegliando, siamo presi ad esempio ormai da dai sedicini, abbiamo ottenuto diversi progetti con i mondi pieni a reddere e lo sport, anche nello sport, in diverse discipline, stiamo raggiungendo ottimi risultati.